I militari della Guardia di Finanza della compagnia di Giulianova, a seguito delle indagini avviate su un precedente sequestro di prodotti con il marchio CE contraffatto, provenienti dalla Campania, hanno sequestrato in un grosso centro di distribuzione a Colonnella 14.000 articoli contraffatti di diverso genere e tipo, in gran parte giocattoli, ma anche materiale elettrico ed articoli da regalo. Le indagini hanno preso spunto dall'esame della documentazione contabile acquisita nel precedente sequestro ed hanno permesso di individuare il centro quale destinatario di analoghi prodotti, già messi in vendita sempre con il marchio CE contraffatto. Ora i militari della Guardia di Finanza di Giulianova vogliono risalire all'origine di quella che sembra essere una vera e propria filiera del falso e non si escludono ulteriori sviluppi dall'esame della documentazione contabile acquisita e dall'analisi dei dati raccolti nel corso dell'attività, al fine di individuare i produttori della merce contraffatta. Tutti gli articoli contraffatti sono stati sequestrati e il legale rappresentante dell'azienda è stato denunciato alla procura della Repubblica di Teramo.